Ciao a tutti, benvenuti il mio oceano. Sono Antonio Barbuto e lui è Henry, il mio cognato. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Firenze e per questo video assaggiamo caramelle americane, ma anche facciamo una comparazione di caramelle americane e caramelle italiane. La settimana scorsa ho portato questi caramelli da Stati Uniti e ieri ho comprato caramelle in supermercato italiano, sembrano simili. Non 100%, infatti questo è il 100%. Sì, questo è l'unico identico, le fruitelle da... La prima caramella è Jolly Ranchers. Sono molto classico negli Stati Uniti. È un caramello molto duro. Caramella. Caramella molto molto dura. Dura. Ho trovato una caramella simile e non dura, è morbida. Sì, è morbida. È gommosa. Queste invece sono più dure, insomma. Sì. Queste sono le famose primizie. Il secondo caramella è anche molto classico in America. Starburst, qui. Molto famoso. E ho trovato una caramella molto simile. Questo americano, questo italiano. Frutella italiano, starburst americano. Quest'americano è un po' più dura. Sì. Un po' più dura. Un po'. Anche ho portato lecca lecca. Ho portato lecca lecca perché mio cognato adorano per lecca lecca. Si chiama in America Blow Pops. Mi piace, eh? Questo è il tuo preferito. Blow Pops è buono. Anche molto classico in America perché non sono una lecca lecca. Ma dentro è gomma. Ma quindi quando lo mangi, tu lo lecchi o lo mastichi? Quando mangi gomma, fai bubble. Sì. Blow Bubbles. Ah, ok. Questo vuol dire. Lo sai? Sì, lo so fare. Ok, ok. E questo gomma in here è molto bene per blowing bubbles. Capito? Wow. E lo fai ancora? I'll show you. Demonstrate. L'italiano classico è Chupa Chups. Blow Pop americano, Chupa Chups italiano. Anche questo classico americano è York Peppermint Patties. Il cioccolato è Peppermint. E ieri ho trovato in supermercato un simile cioccolato. Si chiama Nero Novi alla Menta. In America abbiamo tante chocolate bars. Tante barrette di cioccolato. Si. Il numero uno, secondo me, è Sneakers. Ah, Sneakers. Anche in Italia abbiamo. Si. Ma in Italia non hanno Milky Ways. Usualmente Milky Ways sono grandi così. Anche Crunch sono grandi così. Anche Baby Ruth è grande così. Ah, ok. E Butterfingers è grande così. Ah, ok. Perché fanno una creazione piccola. Piccola per bambini. Milky Way è molto buono. Milky Way è molto cremoso. Caramelloso. Non ho trovato un altro caramello al 100%. Questo. Kinder Bueno. È cremoso. È cremoso, è diverso però. Perché in Italia è più uno tipo snack che caramella. Non è considerata caramella. È un po' più leggero. Questo qui è pesante, enorme. E poi c'è tanta roba dentro. C'è la fabbrica qui dentro. Sì, questo magari assomiglia più a un... Forse a un Mars. L'ultimo caramella è molto famoso in America. Reese's Peanut Butter Cups. Non ho trovato niente simile qui. Burro di peanuts. Di arachidi. Il burro di arachidi che io sappia in Italia lo trovi. Però dolci al burro di arachidi. Anche abbiamo in America. Conosci M&M's? Sì, certo. È tipo di M&M's. Ma... Ah, con il burro di arachidi. Sì, sì. Sì, molto buono. E ho trovato questo. Ha preso il duplo. Perché ha visto che ci sono... Queste sono nocciole, va bene, uguale. Però, altro, in Italia questo non esiste. Ok. Però va bene. È un problema perché non possiamo mangiare tutti. Perché è un problema con la pancia. Non è più giovane il ragazzo. Assaggiamo un pochino. Facciamo una comparazione. Jolly Ranchers. Jolly Ranchers. Ok. Io ce l'ho al gusto uva. Mmm. Molto buono. Molto dolce. Troppo dolce. Troppo dolce per te. Questo sa di scarpa. Shoes. Mi piace. Ok. Italiano. Buono. Aspetta. Devo provare un altro sapore di questo americano. Perché quello all'uva. Sì. Sì. Bè. Molto buono questo. Blue raspberry. La mirtilla in italiano. Mmm. Jolly Ranchers sono buoni. Ma è molto dolce. Tante zucchero. Ma mi piace l'italiano caramelo. Jolly Ranchers mi piace tanto ma è dolcissimo. Sì, dolcissimo. Dolcissimo. Però qui c'è tanti gusti. Uva fa schifo. Però l'altro gusto, quello lì, era buonissimo. Molto chimico. Numero due caramelo. Starburst. Il starburst classico ci sono quattro sapori. Giallo, rosso, rosa e arancia. Il numero uno sapori è rosso. Giallo. L'ultimo. L'ultimo sempre. A me piace il limone. A saci. Sì. Prima l'americano. Mmm. Si attacca ai denti. Il sapori mi ricorda quando ero un bambino. I miei figli adorano questo. Il colore. Quello americano era giallo. Questo è quasi bianco. Mmm. E' buono ma io preferisco l'americano. Questo sa di limone, limone, limone. L'italiano è buono, però meno dolce. Se non vuoi questo è più naturale. Il più naturale per questo è bianco. A me piace più l'italiano. O non ti piace il giallo. Saggi roso. No. No? No. E' fortissimo. Assaggiamo il cioccolato con menta adesso. York's Peppermint Patties. Cioccolato nuovi. Questo è extra fondente. Alla menta. Questo York's Peppermint Patties è un po' flat, maybe in a suitcase. E' schiacciato in un valigia. Ma che mangiato? Mi piace tanto. Molto buono. Ragazzi, non ve lo posso descrivere. Cioè, cartone imbevuto nella menta e poi sotto l'acqua nel fiume. Italiano. Io preferisco York's Peppermint Patties. No. Questo, tutta la vita. Ma davvero? Se andate in America, non compratelo. Il cioccolato italiano. E' in realtà il sbizzo, lo provo a prendere. E' diverso. Perché in americano cioccolato ci sono tanti, tanti menti. Se voi piacciono menti tanto, York's Peppermint Patties è meglio. Se vi piace il detersivo per i piatti alla menta, è uguale. Il milky way. Guarda che roba. Molto cremoso. Delizioso. Molto buono. Molto buono. Questo, per me, è il mio dolce preferito. Molto buono. Il milky way è molto buono. Ma, se dovessi scegliere... Kinder numero uno. Buono è buono. Buono è buono. Non vedo l'olore per te, per esagi, questo. Non è male. Ma è salato, che è? Puro. Molto buono. E' molto strano, eh. E' una palla, mi piace. Oh. Dublon è molto simile di buono. Molto buono. Sì. Come ti senti di Reese's? E' buono, sì. C'è un po' dolce, ma anche salato dentro. Adesso proviamo lecca lecca. Il suo preferito. E' troppo zucchero. Waller mellow. Bello questo. Americano, italiano. Wow. Buono. Vedo. Ma ti piace leccario o lecca lecca? Questo è un lecca lecca al gusto Coca Cola. Anche ci sono blowpops con Tootsie Rolls. E che cos'è Tootsie Rolls? Sapore, forse come caffè. Ah, no. Come ci si arriva la gomma? Dieci minuti. What? Bang. No, you're gonna spread it all around. No, it's not liquid. Sì, mi sparco la camicia, vai via. Basta. Sì, inside. Gomma. Oh, però voglio provare anch'io. Va bene. Bravo. Bravo, bravo. Ma è troppo dolce. Mamma mia. E' la cosa più dolce che abbiamo mai mangiato in Italia. Però, prima di arrivare alla gomma, ci vuole tre giorni. Wow, è bellissimo. Dai, 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 dai. Ok, ho fatto. Questa gomma non va bene. Per era buono. Adesso corriamo per due ore. Per anche tre ore, sì. Ok, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. La prossima volta assaggiamo... Che assaggiamo anche la prossima volta? I cereali. Cereali? Cereali con latte. Ok, proviamo, proviamo. Ok, ragazzi, stay tuned per video di più. Ci vediamo. Ci vediamo. Ok, alla prossima. Ok, ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao.